E' chiaro che il nostro impegno è stato massimo in questa campagna di acquisti. Questo è sicuro, è anche nelle precedenti se vogliamo. È stato massimo. Diciamo che quest'anno forse abbiamo anche alzato l'asticella sicuramente rispetto agli altri anni proprio perché il progetto di questa società è quella di tornare in A2 e quindi stiamo ormai lottando da due anni per questo traguardo e incrociando le dita e speriamo che arrivi il prima possibile. All'orizzonte vedo che quest'anno come noi abbiamo alzato l'asticella molte squadre si sono organizzate. Vedo all'orizzonte squadre molto organizzate, molto attrezzate. Diciamo che il girone nostro, insomma ci sono due o tre formazioni che faranno molto bene e vedo molto bene anche il girone sud. Il girone sud con Ortona, Aversa, insomma vedo che come noi abbiamo alzato l'asticella si è alzato proprio in generale, insomma non a caso il nostro giocatore Milan è sceso dall'A1 per venire in A3, quindi lui aveva un contratto con Siena quindi questo testimonia il fatto che il livello si è alzato e come è successo su Pineto sarà successo sicuramente in altre società. Grazie a tutti.